E parliamo dell'informazione ai tempi dei social media, di come è possibile raccontarla. Lo facciamo grazie ad un concorso per la realizzazione di un video proprio su questo tema. Social media è il mio rapporto con informazione al tempo dell'iperconnessione che è stato lanciato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, dal centro pastorale. Siamo collegati via Skype per saperne di più con Francesca Fimeroni, studentessa della Cattolica a Milano. Buongiorno Francesca, benvenuta. Buongiorno a tutti, grazie mille dell'occasione che ci avete dato per poter parlare di questo progetto dell'Università e del centro pastorale. Grazie Francesca, grazie a voi per aver accolto il nostro invito. Allora, innanzitutto che cosa stai studiando alla Cattolica di Milano? Allora, io sto completando il mio percorso di studi con il corso magistrale di Economia e Gestione dei Beni Culturali dello Spettacolo. Quindi è un'interfacoltà di Economia e Lettere che si occupa della gestione di eventi espositivi e museali. Benissimo, molto interessante. Allora Francesca, raccontaci come e perché è nato questo concorso. Il concorso è nato circa 4-5 anni fa, ma è la prima edizione che si ripete dopo la pandemia. Quindi c'era stata comunque un'interruzione sotto questo punto di vista. E nasce proprio dal centro pastorale all'interno dell'Università per cercare di far riflettere attraverso dei mezzi che possono essere quelli del cortometraggio e del video, di far riflettere gli studenti riguardo una determinata tematica. Quindi ogni anno la tematica cambia e quest'anno vediamo il tema dell'informazione collegato all'iperconnessione. Molto interessante. Mi dicevi appunto che non è la prima edizione, è nato 4 anni fa, poi c'è stato lo stop della pandemia. A chi è rivolto e chi vi può partecipare? Allora, il concorso è aperto agli studenti dell'Università Cattolica, anche che hanno finito il loro percorso da almeno 2-3 anni, ma non solo, anche a docenti e personale tecnico-amministrativo di tutte le sedi dell'Università Cattolica. Quindi abbiamo la sede di Milano, di Piacenza, Cremona, Roma e Brescia. Che cosa devono realizzare? Dei video, dei cortometraggi? Devono avere una durata minima, massima? Ecco, dacci qualche informazione tecnica. I partecipanti appunto dovranno realizzare un video della durata di 3 minuti e raccontare attraverso questo video, in un modo il più innovativo possibile, il loro modo di stare sui social network e quindi di servirsi di questi mezzi di comunicazione, anche come strumenti di informazione e comunicazione, perché ormai attraverso i social network è anche uno strumento per informarci. E poi ci sono delle riflessioni ulteriori che possono essere fatti dal singolo riguardo anche la correttezza delle informazioni che riceviamo. Quindi diciamo un po' questa problematica. Ecco Francesca, qual è il tuo rapporto con i social? Da giovanissima e giovane studentessa, qual è il tuo rapporto? È un rapporto ambivalente, nel senso che sicuramente se ne percepisce l'utilità e è uno strumento molto interessante, ma come ogni strumento all'avanguardia e ai suoi lati difficili. Anche sono delle novità, ogni giorno c'è una novità sui social network, diciamo che c'è una velocità veramente rapida. Quindi ogni giorno c'è un rapporto appunto in evoluzione, non è stabile il mio rapporto con i social network, ma sicuramente appunto li utilizzo. Utilizzo appunto Instagram, Facebook, ma in realtà sui social network poi sono anche un mezzo importante di condivisione. Certo, poi soprattutto oggi diventa un modo per condividere tutto, diciamo la vita quotidiana, la quotidianità. A maggior ragione poi se si è studenti universitari ancora di più. I ragazzi, i giovani della vostra generazione riescono a informarsi anche sui social o l'informazione, come dire, passa in secondo piano? Preferite altro? Secondo me piuttosto i giovani possono informarsi attraverso i social e lo fanno. Il problema che sta alla base dell'informazione attraverso i social è il fenomeno del clickbait, quindi di alcune testate giornalistiche che diciamo che all'interno dei loro articoli inseriscono un titolo di impatto che in realtà non rappresenta la realtà della notizia che poi si va a leggere. Quindi il fenomeno del clickbait è la volontà appunto di ricevere più click possibili, perché questo porta un guadagno riguardo all'articolo e quindi questo crea il fenomeno diciamo anche delle fake news. Perché molte persone magari non leggono l'articolo interamente, ma si rifanno solo al titolo forbiante. E poi c'è il fenomeno comunque dei commenti che possono essere un luogo, dovrebbero nascere come luogo di discussione, diciamo una discussione critica e formativa, ma delle volte sono solo dei luoghi dove appunto si insidia odio e diciamo non sentimenti positivi. Molto bello quello che dici. Francesca, ti terrò presente magari anche in futuro per altri collegamenti così in qualche modo. No, spieghi a noi generazione X, Z, boomer, insomma tutto il resto, come funziona il mondo dei social, perché il vostro è uno sguardo davvero diverso, più aggiornato, più fresco. Vorrei fare riferimento, appunto abbiamo parlato di questo interessante concorso, che è stato bandito dal centro pastorale dell'Università Cattolica del Sacro Core di Milano. Che cosa fa un centro pastorale universitario? Quali sono le sue attività? Allora, diciamo che il centro pastorale di Milano fondamentalmente vuole cercare di rendere l'università non solo un luogo dove lo studente appunto si educa da un punto di vista didattico, ma anche da un punto di vista ci sia anche una crescita umana e anche spirituale e culturale, perché appunto sono di più i progetti accanto a questo del concorso video che porta avanti. Ad esempio io partecipo al progetto di itinerari di arte e spiritualità, quindi è un workshop che dà la possibilità a noi ragazzi di creare una mostra da zero. Quindi pensiamo noi alla tematica, cerchiamo noi degli artisti di arte contemporanea, siamo affiancati dal professore degli assistenti pastorali, ma appunto è proprio un vero e proprio workshop fatto in collaborazione con il Dipartimento di Storia dell'Arte. Quindi per noi studenti è veramente un'occasione bellissima di formazione appunto culturale, spirituale e anche lavorativa, perché è anche un po' il primo approccio al mondo del lavoro che abbiamo. Organizza anche viaggi che riguardano i pellegrinaggi, ad esempio dopo il Covid non credo che sono più partiti, però è stato nel 2018 in Russia, nel 2017 in Cina, prima il cammino di Santiago, quindi per dare un'esperienza anche riguardo questi viaggi. In più porta sempre avanti le missioni, quindi organizza per gli studenti le missioni all'estero per aiutare. È proprio tutto un mondo, un mondo che riguarda i giovani, i giovani studenti, è tutto quello che poi vi attenderà un giorno, quando anche vi lancerete, anche molti di voi già lo sono nel mondo del lavoro. Cara Francesca, ricordaci fino a quando sarà possibile inviare i propri lavori, i propri video. Sì, allora, il lavoro può essere inviato entro e non oltre il 15 ottobre, c'è un portale web del centro pastorale oppure della pagina ICAT per gli studenti e avverrà la proclamazione dei vincitori in futuro, successivamente verranno comunicate le date. Quindi il 15 ottobre è il limite massimo. Bene, allora se sei d'accordo ti stappiamo una promessa e magari quando si conoscerà il nome del vincitore e quando ci sarà questa premiazione, siamo curiosi anche di vedere il video. Magari chiederemo l'autorizzazione a poterlo condividere anche con i nostri telespettatori perché è davvero molto interessante questo concorso del centro pastorale della Cattolica di Milano per raccontare l'informazione ai tempi dei social media. Grazie Francesca per essere stata con noi, ti preoccupava un po' essere in diretta ma te la sei cavata alla grande, complimenti. Sì, grazie. Grazie, grazie a Francesca Fimeroni, studentessa dell'Università Cattolica di Milano. Grazie, a presto allora, ti strappo questa promessa. Bene, bene. Ciao, buona giornata. Grazie, grazie. È sempre un piacere potersi interfacciare con questi giovani che hanno davvero uno sguardo diverso nel mondo, hanno una freschezza davvero contagiosa. Grazie ancora. Noi se la regia mi conferma possiamo andare in pubblicità.